1-4 uguale 1 o con tilde xx negazione chiocciola o con accento circonflesso 1, u con con accento acuto chiocciola tt1t punto esclamativo rovesciato. 0 grado chiocciola o con accento circonflesso 1t7 barra verticale etislandese pn con tilde x tlucon con accento acuto chiocciola t apostrofo etislandese o con accento circonflesso grado e uguale u con con accento grave a condieresi virgola 1 barra 4 uguale t1t punto esclamativo rovesciato negazione etislandese 1t barra verticale a condieresi aiendienti apostrofo. 1-5 dollaro a condieresi. 2018.2.7 barra t1 copyright news 1x1 barra 4 0. . 7 barra verticale etislandese pt1t punto esclamativo rovesciato u con di eresi t barra rovesciato 0 grado chiocciola o con accento circonflesso 1 chiocciola dollaro a condieresi ax t u con di eresi elxe 1 barra 2 d e tislandese a grado x e tislandese, microtea con di eresi. . 2 z con caron barra verticale x a condieresi. . 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 LX A con dieresi A con dieresi. 4 4 3 aperta parentesi chiusa parentesi. T O E U con dieresi X, 1 O con tilde minore di E U con dieresi X, 1 barra 4 uguale T F A con dieresi O E T A con dieresi E A con dieresi P O E D A con dieresi. 0 grado O con accento circonflesso 1 T 7 barra verticale ed islandese P N con tilde X T L U con con accento acuto chiocciola T apostrofo ed islandese O con accento circonflesso grado E uguale U con con accento grave A con dieresi, 1 barra 4 uguale T 1 T punto esclamativo rovesciato negazione E T islandese 1 T barra verticale a con dieresi A 0 P D X A a con dieresi. 2018.2.7 barra T 1 copyright news 1 X 1 barra 4 0. 0 grado O con accento circonflesso 1 T 7 barra verticale ed islandese P N con tilde X T L U con con accento acuto chiocciola T apostrofo ed islandese O con accento circonflesso grado E uguale U con con accento grave A con dieresi, 1 barra 4 uguale T 1 T punto esclamativo rovesciato negazione E T islandese 1 T barra verticale a con dieresi A più con dieresi A con dieresi D. 2018.2.7 barra T 1 copyright news 1 X 1 barra 4 0. 0 grado O con accento circonflesso 1 T 7 barra verticale ed islandese P N con tilde X T L U con con accento acuto chiocciola T apostrofo ed islandese O con accento circonflesso grado E uguale U con con accento grave A con dieresi, 1 barra 4 uguale T 1 T punto esclamativo rovesciato negazione E T islandese 1 T barra verticale a con dieresi A U con con accento acuto chiocciola. T apostrofo ed islandese A postrofo grado P U con dieresi A con dieresi A con dieresi U con dieresi 0 P D X A a con dieresi. . 2018.2.7 barra T 1 copyright news 1 X 1 barra 4 0. . . .